Una seconda operazione nella serata di ieri per stabilizzare le fratture al femore e al bacino, dopo la prima fatta per tentare di riparare la orta e la milza. E' ancora molto grave e ricoverato in terapia intensiva al CTO di Torino Abderazat Salim, l'operaio tunisino di 28 anni, caduto ieri da questa impalcatura a Rivoli, mentre coi compagni lavorava i piani alti di questo palazzo per rifare tetto e cappotto termico. E' precipitato per 25 metri con due altri operai, un italiano di 49 anni e un egiziano di 38, tutti in gravi condizioni. Il ponteggio, questo emerge dalle prime indagini dello Spresal, l'ente della ASL che vigila sulla sicurezza dei cantieri, potrebbe essere stato staccato per eseguire dei lavori, da approfondire inoltre l'altezza dell'impalcatura che sarebbe superiore a quella prevista dal progetto. Sono anche da analizzare gli ancoraggi al palazzo che forse in corrispondenza del sesto piano sono stati rimossi per eseguire dei lavori. Per fortuna due alberi hanno bloccato assi e tubi impedendo che cadessero nel cortile dell'asilo a fianco e forse i rami hanno anche attutito la caduta dei tre operai. A capo dell'indagine il sostituto procuratore Francesco Larosa e per adesso non risultano indagati ma il pubblico ministero ha aperto lo stesso un'indagine per lesioni colpose a carico di ignoti.